9-1-1, qual è l'emergenza? Mi salve, vorrei ordinare una pizza a domicilio. Pizza? Ha chiamato il numero sbagliato, signora. Non credo, la fate ancora con la crosta ripiana al formaggio? L'indirizzo? Certo, è 235 E. Wall Street, appartamento 3F. Signora, è in pericolo, qualcuno le sta impedendo di parlare. Eh sì, è giusto. Ho capito, mi chiamo Grace, i soccorsi stanno arrivando. Ho bisogno che tu mi dica quante persone ci sono in casa. Una pizza media col salame è abbastanza grande per due persone. Ma che dici, la voglio grande. Se un'altra persona con te è quella che ho sentito? Sì, esatto. Ok, sei bravissima. Riesci a dirmi il nome per l'ordine? Il nome sulla carta è Kristen Smart. Ascolta, Kristen, chi ti minaccia è armato? Passa quel disco, forza! Se è armato di pistola, voglio che chiedi salame extra. Il salame extra va benissimo. A di Piperoni.